Perché a quel punto non gli serviremo più. Ma il progetto è loro, Sebastian. Dovrà succedere prima o prima. Sarà anche il loro progetto, ma è il mio sogno, è la mia visione. E cosa vorresti proporre? Di passare alla fase 3 da soli. Alla fase 3? Ma sei matto? Non puoi passare i test sull'uomo. Ci sono delle regole, delle procedure. Non si fa la storia seguendo le procedure. La storia si fa cogliendo l'attimo. Tu vuoi essere il primo, è così? È una cosa che riguarda solo te. Non riguarda solo me, ma tutti noi. Abbiamo sempre detto che avremmo cambiato il mondo. Ora possiamo farlo. E prenderemo il premio Nobel.